Aspetta, se lo faccio così, te lo vieni giù! Vieni, puttana! È una casa, è super bello! Vieni, forza! Vieni! Ho mancato! Ho mancato! Vieni giù! Vieni giù, tanto è morbido! Vieni giù, tanto è pala! Vieni giù, vieni giù, vieni giù! 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 Allora, una sera, mi abbiamo ammazzato una cucina! Dai, vieni su, sennò non c'è gusto! Non c'è gusto! Non c'è gusto! Non c'è gusto! Lì l'ha capito perché... Ci ha flipa perché ha visto il supertello! Non c'è gusto! Che documentario è come uccidere un calabrone! No no, fallo qualche erro, è troppo divertente! Aspetta! Il documentario è su come uccidere un calabrone! Non c'è gusto! Fagli vento, almeno cade! Appunto! Ecco! Ecco, pronto, pronto! Giù, vieni perché è il muso! Giù, vieni giù! Vieni! Ma poi già dove vengono, io non so! Ah, da mo' Vieni! Perché se... Vieni... Vieni, piccolino! No! Vieni! Vedeteci una botticella così Vedeteci una botticella così Vedeteci una botticella così Vai, bravo! Grazie! Vieni! Vieni! Vai, vai! è finito vittore spelliamoli insieme allora dopo prendili e ti butti tutto nel fuoco vieno e spacchi la pala e vabbè poi tanto c'è la frittura poi ne troviamo le altre se ne vengono